crisi idrica la regione chiede lo stato di emergenza medico novax sospeso il tribunale respinge il ricorso pesaro vola hollywood per la stella di pavarotti arriva alla tari fra aumenti e possibilità di sgravi 20.000 candele hanno illuminato la notte di san lorenzo buonasera benvenuti al nostro telegiornale oggi è giovedì 11 agosto e in questa prima notizia torniamo ad occuparci dell'emergenza idrica nelle marche perché oggi la regione ha presentato la dichiarazione dello stato di emergenza al dipartimento nazionale di protezione civile una richiesta ipotizzata da inizio luglio e che ora viene formulata anche in previsione della scarsità di precipitazioni attese nelle prossime settimane la richiesta rendi conto a tutte le criticità presenti sull'intera regione in particolare sono state evidenziate le spese e gli interventi messi in campo per fronteggiare la crisi idrica 700 mila euro di spese straordinarie da parte dei comuni e di 5 milioni e mezzo da parte degli ato che hanno già previsto altri 10 milioni di euro da destinare a interventi strutturali in prospettiva situazione molto delicata nella provincia di pesaro urbino che risulta il territorio più critico per l'approvvigionamento idropotabile ed ora ci spostiamo al tribunale di pesaro dove è arrivata una sentenza in tema dei vaccini anti covid destinata a fare giurisprudenza dal tribunale di pesaro arriva un altro caso destinato a fare giurisprudenza sul territorio il tribunale ha infatti respinto il ricorso di un medico che ha contestato la sospensione dalla professione combinatagli dall'ordine dei medici di pesaro urbino in seguito al suo rifiuto di sottoporsi al vaccino anti covid dopo la guarigione da un'infezione dal virus si tratta della prima sentenza con questo esito nel territorio provinciale il medico in questione è una dottoressa di 58 anni dell'ospedale di urbino si è ammalata di covi 19 durante la prima ondata del 2020 e una volta guarita si è rifiutata di sottoporsi al siero anti covid scontrandosi però con le normative vigenti per l'esercizio della professione medica a novembre 2021 è scattata la sospensione dell'ordine dei medici di pesaro urbino ed è partito il braccio di ferro giudiziario la dottoressa si è opposta a ordine asur sostenendo di aver sviluppato gli anticorpi necessari di temere per i rischi della salute derivanti dal vaccino e che questo e la nessa sospensione violino la costituzione e la legge sulla privacy un ricorso che questa settimana è stato rigettato dal giudice maurizio paganelli che ha posto l'accento sul fatto che non è contestabile che la vaccinazione garantisca una copertura elevata dal ricovero in ospedale o dal decesso e che nel vaccino c'è un rapporto benefici rischi accettabile in base alla ridotta incidenza di reazioni avverse rigettate anche le presunte violazioni di diritto costituzionale soddisfazione per l'ordine dei medici pesaresi che accoglie così un precedente importante di fronte ad eventuali altri ricorsi contro sospensioni di medici novax il 24 agosto il comune di pesaro e i rossini opera festival voleranno a los angeles per la posa della stella di luciano pavarotti nella walk of fame di hollywood un tributo di pesaro al suo illustre cittadino adottivo e una straordinaria promozione negli stati uniti per la capitale della cultura pesaro è pronta a volare a los angeles nel nome di luciano pavarotti nel nome del maestro che di pesaro è stato cittadino adottivo e che verrà onorato nella west coast dove per l'occasione troverà un'occasione planetaria di promozione anche il brand della capitale della cultura 2024 la data cercata in rosso è quella del 24 agosto quando sulla walk of fame di hollywood ovvero la strada delle stelle californiane verrà posta anche la stella del maestro pavarotti alla presenza del città di modena e di pesaro l'idea nasce geniale da paolo rossi pisu che a los angeles per il lavoro su linea vermuller notando l'assenza di una stella dedicata a pavarotti nella walk of fame un paio di anni fa ormai si si pensa a questa idea mettendo insieme innanzitutto ovviamente il pensiero alle volontà delle famiglie naturalmente la camera di commercio di los angeles che poi è protagonista di questa operazione e anche gli enti locali in particolar modo il comune di pesaro la città di pesaro la città di modena e l'emilia romagna come regione pesaro naturalmente la seconda città di pavarotti per la casa estiva dove che non era solamente una casa di vacanze e di relax e di riposo ma era il luogo della produzione dell'elaborazione dei grandi progetti che poi avevano luogo in inverno nei tenori a sting giovanotti zucchero insomma bono tutti tutti sono circuitati per quella casa anche per programmare le cose da fare i pesaresi ne hanno ricordo ancora indelebile anche perché poi luciano non si incontrava tante occasioni anche all'alimentario fondamentalmente in edicola insomma è una figura che si è esibita tante volte per la città anche gratuitamente ricordiamo l'apertura la riapertura del teatro rossini l'apertura del della loro bp a palace tanti fili che legano a che legano alla nostra città e quindi una insomma un tributo di gratitudine ma anche un ulteriore elemento di promozione che pavarotti indirettamente direttamente farà per pesaro perché per noi sarà l'occasione di parlare di rossina professione di parlare di capitale italiana della cultura l'istituto italiano di cultura di los angeles al warner theater di los angeles quindi insomma avrà molti elementi collaterali addirittura figure di alessandro del piero giocatore ma anche imprenditore a los angeles sia appassionato della vicenda sarà presente con alle sederazioni quindi capite insomma l'eco mondiale che avrà questa cosa potere avere pesaro all'interno di questa di questo evento sicuramente sarà un grandissimo lancio mediatico comunicativo ma diciamo su una storia da base culturale sarà una tre giorni americana in cui avrà una grande vetrina promozionale il rossini opera festival la cui storia ha tanti fili annodati alla storia di luciano pavarotti pavarotti è stato protagonista il festival nel 1986 con un concerto in una piazza incredibilmente gremita di oltre 7 mila persone in cui era stato allestito un grande teatro che la stampa dell'epoca definì come il più grande teatro all'aperto del territorio e probabilmente aveva ragione lavorati quindi inaugurò il più grande teatro all'aperto poi aveva già inaugurato il teatro rossini qualche anno dopo inaugurerà e la l'attuale vitri frigo arena che ospita ancora oggi gli spettacoli del rossine para feste quindi un legame che non si è mai interrotto che con questa iniziativa abbiamo intenzione di rinsaldare proprio riportando il festival fisicamente negli stati uniti dove risiede una delle più importanti comunità di nostri di nostri spettatori dove c'è un'associazione di sostenitori friends of rock con i quali abbiamo intenzione di riallacciare i rapporti dopo due anni che causa pandemia è stato più difficile mantenere mantenere i contatti abbiamo portato spesso iniziative su una costa orientale questa è un'occasione per andare anche nella costa occidentale quindi verso la california la cerimonia della stella nella world of fame diventerà anche un evento per la città di pesero trasmesso in diretta alle 20 e 30 del 24 agosto giocando sul fuso orario che ci permette insomma una contemporaneità con le 20 e 30 e allestiremo adesso stiamo ancora decidendo per motivi tecnici se in piazza del popolo o in piazza della libertà però la cerimonia alle 20 e 30 del 24 di agosto potrà essere seguita in diretta dei pesaresi ovviamente contorneremo la serata anche gli altri momenti artistici musicali per far diventare un momento memorabile una vera festa per tutta Pesaro ed ora andiamo a parlare di viabilità nel comune di Pesaro le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono al completamento dei lavori di asfaltatura della rotatoria di largo tre martiri avvenuto nella notte appena trascorsa un intervento che vi abbiamo documentato anche nei giorni scorsi e che rende definitivo uno degli snodi stradali cittadini più trafficati dopo tre anni e mezzo di sperimentazione con New Jersey provvisori intersezione stradale che ora verrà completata da una nuova illuminazione e adesso parliamo di tari il 16 agosto nelle case dei pesaresi cominceranno ad arrivare le bollette della tari una tassa sui rifiuti che si annuncia più salata degli scorsi anni ma ci sono delle famiglie che possono beneficiare di sgravi davvero importanti allora vediamo quali sono i requisiti in questo prossimo servizio dal 16 agosto nelle case delle famiglie pesaresi cominceranno ad arrivare le bollette della tari 2022 emesse da marche multiservizi quest'anno la tassa sui rifiuti si annuncia un po più salata circa il 3 4 per cento in più per quello che riguarda le utenze domestiche un balzello che va a complicare ulteriormente il fardello di aumenti delle altre bollette di luce acqua e gas si tratta però di un aumento non dipendente da scelte comunali bensì dai metodi tariffari imposti da arera vale a dire l'autorità di regolazione per energia reti e ambienti i pesaresi avranno la prima o l'unica scadenza il 16 settembre in cui pagare l'intero importo dell'imposta o pagare la prima rata la seconda terza e quarta rata si potranno pagare entro il giorno 16 dei successivi mesi di ottobre novembre e dicembre eppure quest'anno ci sarà chi potrà pagare la prima rata della tari ed essere a posto per l'intero 2022 beneficiando dello sconto di tre quarti dell'importo anzi c'è pure chi quella prima rata l'ha già pagata ancor prima dell'arrivo delle bollette nelle case già perché dallo scorso mese di luglio il comune ha stanziato 200 mila euro di fondotari inserito nel fondo anticrisi presentato ad aprile per aiutare le famiglie in stato di bisogno con le bollette un fondo stanziato in accordo con marche multiservizi e sigle sindacali a beneficiare dello sgravio del 75 per cento della tassa sui rifiuti sono i nuclei con valore risè non superiore ai 15 mila euro per le famiglie composte da 1 o 2 componenti non superiore a 20 mila euro per i nuclei composti da 3 4 componenti e non superiore a 22 mila euro per i nuclei composti da 5 o più componenti c'è chi ha già beneficiato dello sconto perché dallo scorso primo agosto si può presentare domanda esclusivamente con modalità telematica accedendo ai servizi online del comune di pesero e non lo specifico al fondo anticrisi cliccando su servizi sociali i richiedenti devono dimostrare di essere in regola con i versamenti tari delle annualità precedenti e già un centinaio di famiglie pesaresi hanno approfittato di questa opportunità chiedendo l'importo della prima rata tari ricevendo il bollettino e pagandolo subito il portale resterà aperto fino al 30 settembre ma il contributo verrà erogato agli aventi diritto fino e non oltre all'esaurimento dei 200 mila euro stanziati nel caso i fondi non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno si procederà con la formazione della graduatoria sulla base dell'isee con priorità ai nuclei familiari con più componenti come ormai tradizione da otto anni la notte di san lorenzo è diventata ufficialmente nel nostro territorio la notte delle candele una serata che vi riproponiamo in questo prossimo servizio ricordandovi anche i due speciali d'approfondimento che rossini tv ha realizzato e allora domani sera venerdì alle 21 e 20 potrete rivedere l'appuntamento che abbiamo registrato appunto sul lungomare di pesaro mentre sabato alla stessa ora sempre su rossini tv vi faremo vedere invece le candele che hanno illuminato gabice mare vediamo il servizio la notte di san lorenzo chiama pesaro risponde presente e lo fa con una serata di candele sotto le stelle da quasi 40 mila visitatori con più di 20 mila candele a illuminare il lungomare di pesaro la riviera del san bartolo gabice mare e gradara il vento ha disturbato un po la resistenza delle candele ma non il piacevole rituale della serata del 10 agosto in total white è una serata magica che caratterizza ormai l'estate pesarese da qualche anno quest'anno tantissima gente nonostante il vento le candele sono un oggetto molto delicato però abbiamo deciso di confermare la serata perché è una bella serata si sta bene il vento diciamo non aiuta ha reso il lavoro dei volontari della proloca ancora più impegnativo dalla proloca di candelara però davvero una serata molto partecipata e anche quest'anno 30 40 mila persone sono riversate sulla battigia 7 chilometri di spiaggia in ogni stabilimento balneare che si è organizzato è pieno di gente che mangia che cena insieme è una serata molto semplice dove però la magia delle candele si mescola con la musica le attività che vengono fatte anche con la ricerca di qualche stella cadente che diciamo possa essere di buon auspicio per ognuno di noi e complessivamente anche per la nostra città una notte delle candele apparecchiata dal maxi lavoro dei volontari della proloca di candelara che hanno omaggiato con le fiammelle la vittoria a capitale della cultura 2024 alle candele che abbiamo distribuito sia i bagnini che abbiamo usato anche per la scritta tutto quanto equivalgono a più di 20 mila fiammelle che abbiamo distribuito lungo al litorale di pesaro per arrivare fino a gabice gradara e fiorenzuale vallugola i volontari che collaborano a questa realizzazione sono una quarantina tra cui abbiamo la proloca di candelara con i suoi volontari la proloca diciamo le associazioni di novilara più abbiamo la hollus la gulliver più tutti i vari volontari e tra questi anche la protezione civile che ci dà sempre tutti gli anni una grande mano da otto anni la notte delle candele è diventato un appuntamento fisso dei pesaresi ma pure dei turisti nei nostri alberghi promuoviamo questa serata come una delle serate top dell'estate pesarese anche perché è molto suggestiva e attrae molto i turisti già da oggi pomeriggio verso le sei ho visto già le persone passeggiare chiedere della serata quindi è proprio un bel momento a metà ottobre il comune di terre roveresche vedrà attivato il servizio potes del 118 lo ha annunciato il sindaco antonio sebastianelli trovando finalmente riscontri positivi dopo anni di pressing sulla regione marche dopo il superamento delle problematiche di reperimento di personale sanitario il servizio medico di emergenza e urgenza attivo 24 ore su 24 partirà ufficialmente tra due mesi e sarà collocato al centro salute carlo amodio di orciano gli itinerari della bellezza salgono a 17 comuni piobbico è l'ultimo territorio ad aderire al progetto di promozione turistica di conf commercio con un'intesa siglata dal direttore amerigo varotti assieme al sindaco alessandro urbini e al presidente della proloco marco martinelli piobbico entra nel circuito con le bellezze ambientali del monte nerone il castello dei brancaleoni un ricco patrimonio di chiese eccellenze gastronomiche e il tradizionale festival dei brutti da piobbico ci spostiamo a urbani a dove prosegue la terza edizione delle durante festival dopo il concerto inaugurale dell'orchestra di sassofono e di federico mondelci domani venerdì 12 agosto alle 21 e 15 sarà proposto dal vivo canzoni l'album di esordio da solista del talentuoso organettista alessandro d'alessandro che per l'occasione sarà affiancato dalla straordinaria voce di petra magoni ed ora ci spostiamo ad urbino una città e un territorio da scoprire in bicicletta con la prima edizione della raffaello gravel raffaello gravel è la nuova nata dell'associazione ciclo ducale di urbino si terrà il 18 di settembre alla fortezza al bornos con il palco scenico favoloso di urbino di fronte è un evento diciamo che va a considerare un settore della bicicletta outdoor che sta prendendo piede in maniera esponenziale perché viene vissuta in maniera slow e attraverserà diciamo i territori delle campagne sulle strade sterrate attraverso luoghi e borghi bellissimi di conseguenza è una filosofia di vivere il territorio attraverso la bicicletta scoprendo le bellezze sia diciamo culinarie perché avremo due diciamo pit stop in aziende del posto ma anche vedere magari delle scorci del territorio che sulle strade asfaltate non si vedono ci auguriamo di avere almeno 200 persone alla partenza perché poi dopo è un progetto quinquennale come abbiamo fatto con la straducale la partenza come dicevo prima è alle ore 8 per il percorso lungo perché ci sono due percorsi un percorso da 100 chilometri circa con 2000 metri di dislivello è un percorso da 64 chilometri con 1200 1300 metri dislivello nel percorso corto potremo far partire le bike perché anche quello è un settore in espansione la decathlon è un'azienda commerciale ma comunque il senso che ci muove è quello di rendere accessibile lo sport quindi tutte quelle attività che possono avvicinare le persone allo sport per noi ovviamente sono sono preziose la raffaello grave si chiaramente si conforma all'interno di questo nostro senso aziendale quindi ci ha fatto piacere vedere la location ci ha fatto piacere comunque notare quelle che sono le potenzialità della manifestazione ci siamo immaginati un villaggio sportivo dove contemporaneamente alla manifestazione arricchire l'evento e consentire anche a chi in quel momento non sta praticando lo sport e quindi non è direttamente impegnato nella gara di fare sport immagino i partecipanti numerosi so che saranno numerosi potranno veramente apprezzare i nostri paesaggi la nostra gente la nostra comunità e tutta la passione che trasferisco l'associazione che organizzato a questo evento la manifestazione ha le caratteristiche tipiche del nostro progetto itinerario della bellezza un progetto che vuole valorizzare un turismo slow un turismo lento per consentire ai turisti ai viaggiatori di fermarsi sul territorio e vedere le tante eccellenze che il nostro territorio offre e il gravel da questa opportunità perché intanto non è una gara con vincitori ma è un percorso che si fa in bicicletta con vari tipi di biciclette credo adesso io non sono un grande esperto ma appunto rappresenta meglio di altri il turismo lento quello che noi vorremmo che diventasse l'immagine un po della provincia di peso urbino un turismo sostenibile e che valorizza l'ambiente valorizza i beni culturali bene e no gastronomici e chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport continua il precampionato della vispesaro e le immagini che vi mostriamo ora vengono da morciano dove i biancorossi sono stati impegnati ieri in un triangolare con la squadra di eccellenza victor san marino e la united riccione che punta a vincere la serie d due pareggi per la vis di sassarini che ha ruotato l'intera rosa nei due match terminato 0 a 0 quello col san marino e 2 a 2 quello con riccione reti biancorosse che sono state segnate da cannavo e ngom la vis tornerà in campo anche sabato ancora morciano dove alle ore 17 affronterà il pineto altra squadra in serie d fissata invece per sabato 28 agosto la prima amichevole con un avversario pari grado si giocherà infatti contro il pescara in casa degli abruzzesi siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma se volete rimanere su rossini tv questa sera in prima serata alle 21 e 20 vi mostriamo quella che è stata questa bellissima camminata sotto le stelle nel comune di tavuglia una camminata al chiaro di luna per scoprire le bellezze naturali che insomma si possono vedere solo quando scende la sera e noi l'abbiamo documentate ve la mostriamo questa sera le 21 e 20 e poi attenzione perché domenica 14 agosto alle ore 11 vi trasmetteremo in diretta dal santuario del beato sante di monbaroccio la santa messa per la festa del beato sante e la festa del voto celebra il monsignor sandro salvucci non perdetevi questo appuntamento domenica alle ore 11 e poi domani torna la nostra rassegna stampa sia domani che anche sabato come sempre in diretta alle 7 20 vi ricordiamo anche che continuano i nostri appuntamenti del venerdì alle ore 17 30 con la lettura il commento al vangelo della domenica a cura di don marco di giorgio abbiamo detto davvero tutto carissimi amici grazie per essere stati con noi anche questa sera vi ricordo che tutte le edizioni del nostro telegiornale le potrete rivedere sul nostro sito www.rossinitv.it buona serata